Chiusa a Bivongi via Vittoria Emanuele in pieno centro storico dopo l'ennesimo crollo di calcinacci e mattoni da un'abitazione abbandonata. La decisione è del sindaco Vincenzo Valenti che ha emesso un'ordinanza di chiusura dal numero civico 14 fino al numero civico 23 dove è obbligato l'edificio pericolante perché ritenuto come riporta all'ordinanza che tale situazione possa pregiudicare la vita e la pubblica incolumità. La chiusura di questa importante via implica difficoltà nell'attraversamento del centro storico per i residenti che devono seguire percorsi alternativi. Bene ha fatto il sindaco a decidere la chiusura ma ora bisogna intervenire subito sugli eredi dell'immobile per bonificare e rendere sicura l'area perché le casse del comune non sono fiorenti. Qualche mese fa c'era stata una denuncia del capogruppo di minoranze del Consiglio Comunale Nicola Lombardo sulla criticità del centro storico. Stiamo parlando del centro storico di Bivongi che sta partecipando anche a un bando o un concorso istituzionale tra i migliori borghi d'Italia. Io mi faccio una domanda, come si fa a far camminare i cittadini in un paese in cui il centro storico sta crollando in modo totale? Non c'è una casa del centro storico, quando mi riferisco al centro storico mi riferisco a case che hanno 100-150 anni di vita, anche di 300 anni. Sono in autodisplacimento e in autodemolizione perché mai nessuno ha fatto manutenzione oppure l'hanno abbandonato e sono andato a vivere in case nuove. Adesso abbiamo come comune sotto monitoraggio almeno 7 abitazioni che stanno per crollare, non che stanno per crollare l'anno prossimo, possono crollare da un minuto all'altro, che dal punto di vista burocratico individuati i padroni si fa denuncia ai padroni, nessuno risponde o non si trovano e poi la burocrazia si ferma, non si può fare più niente. Io mi domando e dico o prima o poi queste case cadranno e ammazzeranno qualcuno, si può sapere chi è il responsabile di questo incidente mortale che ci potrebbe essere a Biongi in particolare nel centro storico? Ci sarà qualche ente che possa dire sventriamo o possa dire ricostruiamo o possa dire rigeneriamo altrimenti qualcuno ci rimette le penne? Lombardo aveva anche segnalato il rischio continuo per la signora JG che ha l'abitazione a ridosso di quella pericolante per la caduta di calcinacci nelle scale di ingresso. Qualcuno suggerisce di abbattere le case pericolanti, ma non bisogna dimenticare però che il borgo conserva la memoria storica del paese e qui ci troviamo a ridosso del ridone Iudeca, residenza dei primi ebrei giunti per praticare il commercio dei prodotti locali. Il cuore unanimo della maggioranza dei cittadini è di recuperare e mantenere la bellezza del caratteristico centro storico e non di abbattere case in modo selvaggio come fece il genio civile in occasione dell'alluvione del 1951, dove oggi è stata ricavata una piazzetta con a ridosso le pareti delle case abbattute che mostrano i disegni dell'alluvione rendendo Monco parte del centro storico. Adesso ci sono case che sono state costruite, non so come, ma sono nuove, costruite nuove, dove erano state demolite per intero dal genio civile, anche da quella parte c'era la demolizione del genio civile e quindi il genio civile, parlo di circa 40 anni fa, ha demolito ciò che andava demolito. Oggi perché non si può demolire ciò che va demolito? Lampante anche il danno prodotto al paese quando lo stesso ente decise di abbattere nel 1963 la chiasetta bizantino-normanno con cupela a trullo nel rione Batia, indebolita dalle varie alluvioni che si sarebbe potuta salvare. A nulla valsero le proteste dell'amministrazione dell'epoca, conscia di perdere una testimonianza storica del paese. La domanda dei cittadini è quanto tempo ci vorrà ora per riaprire la strada memori del ponte progresso ancora chiuso che da tre anni lascia il paese spaccato a metà.